E all'erta rossa causa maltempo in buona parte della provincia di Sondrio. Le aree interessate sono la Val Chiavenna, la bassa Valtellina, il Sondriese e il Tiranese. All'erta arancione in Alta Valle dove però alle 14 è scattata la chiusura della provinciale 29 della Val Furba nel tratto regolato da semaforo vicino alla frana del Ruinon. Santa Caterina è raggiungibile percorrendo la strada di emergenza. Il passo Gavia resta aperto anche se causa maltempo. Poi è stata annullata la manifestazione Enjoy Steady National Park in programma domani dedicata ai ciclisti per il quale era previsto lo stop alle auto su entrambi i versanti. Nella giornata di oggi decine di interventi per rivigere il fuoco impegnati in tutta la provincia per allagamenti e taglio di rami pericolanti. Notevoli le portate di fiume torrenti, le immagini che vediamo si riferiscono al Mallero ripreso sia a Chiesa in Valmalenco sia nel tratto Catraverso alla città di Sondrio. L'ultimo bollettino diramato alla protezione civile regionale evidenzia situazioni di possibile grave rischio idrogeologico. Nelle 18 le precipitazioni si sono intensificate e resteranno tali fino alla mattinata di domenica.